A Rezzo si proponga per accogliere il monumento a Giovanni Paolo II che il Consiglio di Stato francese ha bocciato e per cui la cittadina francese di Plermel in Bretagna ha sei mesi di tempo per ottemperare all'ordine del Consiglio di Stato. A Rezzo ospiti la statua di Voetila che la Francia non vuole. È questo l'appello lanciato dal popolo della famiglia di A Rezzo al sindaco Ghinelli. Lo scorso 25 ottobre il Consiglio di Stato francese infatti ha stabilito la rimozione della croce che sovrasse un monumento eretto a San Giovanni Paolo II in quanto l'esiva della legge del 1905 sulla separazione tra Stato e Chiesa. Il monumento comprende una statua di Papa Voetila sotto un arco di pietra sopra la quale svetta appunto la croce. L'artista che lo ha scolpito si è già dichiarato contrario a togliere la croce dal resto del monumento. Ci sono già diverse richieste anche dall'estero, il governo ungherese, il governo polacco ovviamente. A noi farebbe piacere che anche A Rezzo si candidasse a questo per due ordini di motivi. Il primo è che c'è un forte sentimento di affetto anche verso questo Papa e l'anno prossimo ricorreranno i 25 anni dalla sua visita pastorale ad Arezzo nel corso della quale affidò l'intera città alla Madonna del Conforto con una preghiera molto bella scritta da lui. E il secondo, molto importante anche questo, è che fa parte delle nostre radici, la croce. E in ultimo crediamo che un gesto simile possa portare anche A Rezzo all'attenzione dei media e del turismo per una questione bella, che sa di buono, di aria pulita, diciamo in senso metaforico chiaramente, e che faccia pensare in maniera positiva al futuro che ce n'è anche bisogno.